Oggi parliamo del mago di Oz. Ah, che meraviglia! Come tutti sappiamo è una storia stupenda, però io vi voglio raccontare della realizzazione del film. Successero tante, tante cose. Parliamo del casting. Non fu scelta all'inizio Judy Garland, all'inizio fu scelta Shirley Temple, però forse era troppo piccolina e soprattutto non avrebbe retto ai ritmi di lavoro per la realizzazione di questo film, perché questo film andava realizzato in poco tempo, ma ciò non accadde perché capitò qualcosa di molto peggio. Judy Garland, che era adolescente, per recitare la parte di Dorothy fu costretta a prendere e assumere le pillole per dimagrire, i barbiturici, le anfetamine e poteva mangiare solo del brodino, perché sennò non sembrava piccola. Soprattutto stava cominciando a crescere nel seno e glielo legavano stretto, 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 stretto e lei svenne diverse volte sul set. Ma andiamo per gradi perché ci sono altre storie carine. Questo set, anche se il film ha avuto un successo storico nella storia del cinema, era un set non dico maledetto, ma particolare. Immaginate che c'era una temperatura che uscireva sempre sui 40 gradi, luci ovunque, e soprattutto avevano deciso di utilizzare per fare la scenografia il lamianto. Perché no? Continuiamo con i personaggi. Per quanto riguarda lo spaventapasseri, quando fu fatto il trucco allo spaventapasseri, come vedete lui ha questo tessuto strano sul volto, quando si toglieva questa protesi gli rimasero per anni le righe in faccia. Un'altra caratteristica simpatica è quella dell'attore che fece l'uomo di latta. Praticamente decisero di pitturargli la faccia con una pittura all'alluminio, che causò in lui quasi la cecità. Ma sono dettagli perché quello è un cast bello e soprattutto è un film gioioso, un film di felicità. Una delle scene più belle è quella quando arrivano i nanetti, i mancichini. In America i mancichini, da noi mancichini, sono dei nanetti. E questi nanetti, che erano circa 40, giravano per questo set. E la cosa bella è che sì, c'erano le canzoncine, c'era tutto colorato, tutto carino, ma i nani erano sempre ubriachi e molestavano sessualmente Judy Garland. Ma Judy Garland, siccome steva fuori come nomelone perché era piena di barbituri, ci diceva, fate, io non vi sento. E i nani ne approfittavano male, le alzavano la gonna, si ficcavano sotto la gonna, sempre, tutto il giorno, brutto. L'uomo che era vestito da leone, è una storia bellissima, il vestito da leone, ma se lo dobbiamo fa, facciamolo bene, e quindi presero la pelle e i peli di un vero leone e gliela misero addosso. In più la protesi che aveva richiedeva tra le 4 e le 5 ore per essere realizzata. Quindi lui andava su sette la mattina alle 4, gli facevano il trucco, gli mettevano questo coso che pesava 60 chili, 40 chili addosso e andava a recitare. Non poteva mangiare, non poteva mangiare, infatti dimagri una cosa come 20 chili, lui è ringraziato per la dieta, e sudava come una bestia perché c'erano 40 gradi su sette e quindi puzzava da impazzire. Judy Garland e lo spaventapasseri lo sfottevano tantissimo. Ed è una scena bella questa qua perché immagina che sto facendo un film bellaviglioso, tutto colorato, le canzoncine, Somewhere of the Rainbow, la strega, le cose, le scarpette rosse, tutte queste cose qua e io sudo come una bestia e questi mi dicono fai schifo, puzzi, mantenevi via! Bellissimo. C'è la storia della strega dell'Ovest. L'attrice che praticamente faceva la strega dell'Ovest rischiò la vita tre volte. Perché? Perché praticamente prima di tutto la vernice verde che la rese particolarmente caratteristica e tutti ricordano la strega dell'Ovest quando fosse brutta e cattiva, le rimase per mesi sulla faccia. Cioè lei divenne verde. In più, perché le volevano bene quelli del set, c'è una scena fantastica dove praticamente bisogna farla sparire la strega dell'Ovest perché arriva la strega del Nord che dice vattene via! E c'è una fiamma. Questa fiamma appicciò, uscionò la strega dell'Ovest. Davvero prese fuoco. Le riprese furono interrotte per circa tre mesi ma bisognava andare avanti e quindi chiamarono una controfigura e bisognava fare un'altra scena dove scoppiava del fuoco e si appicciò pure la controfigura e quindi interruppero per altri due mesi la realizzazione. Ci vogliono circa nove mesi per completare il film che è una cosa assurda per la realizzazione di un film che in genere ci vogliono tra i due e i tre mesi. Un'altra scena bellina, proprio carina, è quella quando inizia a nevicare nel mondo del Regno di Oz. E nel mondo del Regno di Oz inizia a nevicare e loro dicevano abbiamo usato l'amianto che facciamo per fare nevicare. Ma prendiamo dell'amianto e togliamolo in una macchina che fa nevicare l'amianto e nevicare l'amianto su Judy Garland, sullo spaventapasseri, sul leone e sull'uomo di latta che già stava molto bene. E poi c'è la storia del suicidio. C'è una leggenda. Nel primissimo montaggio del film c'è una scena dove Dorothy, lo spaventapasseri, il leone e l'uomo di latta, si danno la mano e vanno seguendo il sentiero dorato verso il castello del mago di Oz. In profondità si vede una cosa strana. Si vede una corda con un omino così. Si era impiccato uno dei nani che era triste e depresso. E questa è una storia che può essere tra il vero e non vero. Svelata, non svelata. È un mistero che rimane ancora oggi. Perché fa paura sta cosa? Perché nel montaggio successivo, quando fu restaurata la pellicola, a posto di quella scena, misero un uccello. E quindi il confine sottile tra perché l'hanno sostituita quella scena? Parliamo del mago di Oz, che voi ricordate c'era in macchinario con questo faccione fantastico. Era un uomo perennemente ubriaco. Tutte le scene che vedete. Lui era ubriaco. Sempre. Ed era bellissimo immaginare che giudicarlo, andrà a rimano, chiedono i desideri e lui da ubriaco dice sì, sì, lungo quello che volete, non vi preoccupate, tanto io sono mago di Oz. Il film all'uscita non ebbe molto successo e soprattutto era tutto in bianco e nero. Quando arriviamo a metà degli anni cinquanta, nella casa degli americani, ma quelli ricchi, c'erano i primi modelli di televisore in Technicolor. Fu trasmesso per televisione il mago di Oz, dove subito dopo che la casa precipita dopo l'uragano, il mondo di Dorothy diventa colorato nel momento in cui si entra nel regno di Oz. E questo all'epoca, immaginate che non c'era internet, non c'era niente e solo i ricchi si permettevano, negli anni cinquanta, un televisore a colori. Immaginate che bomba atomica fu visivamente per i telespettatori. Infatti da lì divenne un mito questo film, ma ebbe poi la sua consacrazione con l'home video, con le videocassette, i DVD e i Blu-ray. Il regista del mago di Oz è il regista di Via Colvento e quindi parliamo di un prodotto di grande qualità, ma in realtà prima del regista di Via Colvento c'era un altro regista che era cattivo e che lui fece mettere tutto l'amianto in anni ubriachi, di tutta sta gente. Quello del regista di Via Colvento si trova tutta sta gente simpatica per mezzo. E completiamo il film. Che meraviglia.